Ora, eccoci qua, ben ritrovati. Oggi è una giornata politicamente molto molto importante. Vedo che la Ludovica Ciriello sta correndo come una matta, che rincorre qualcuno. Vorrei capire chi sta rincorrendo. Scusatemi, non ho capito. Renzi, Mirta. Stai rincorrendo Renzi, ma dov'è? Scusa. Ci sono caro figlio Renzi e Marattin. Ah, perfetto, avvicinati. Caro figlio Renzi e Marattin. Senza pietà. Buongiorno, siamo in diretta con Mirta Merlino. Siamo in seguito. Non accetta l'intervista. C'è Mirta che ci vuocitiene a fare una domanda. Dai, saluta Mirta. Ciao Mirta. Come cosa farà Italia Viva oggi in aula? Lo sapete già. È arrivato anche Agnoletti con la bicicletta elettrica. Va bene. Allora, Renzi non vuole parlare. Lo scopriremo solo vivendo quello che accadrà oggi in aula. Perché siamo così preoccupati da quello che accadrà oggi in aula? Perché oggi si voterà sul famoso processo a Salvini. Dopo tante discussioni siamo arrivati al momento della verità. Anche se è tutto molto molto complicato, molto molto strano.